Avellino e Foggia tornano ad incontrarsi dopo oltre tre anni in palio punti pesanti di fronte la vice capolista e la sesta attuale forza del girone centro meridionale di Serie C. Marchionni rinuncia a Fumagalli squalificato tra i pali debutto tra i professionisti per Distasio, sfortunato protagonista della serata come vedremo. Ed è proprio Distasio a salvare dopo dieci minuti chiudendo su Magnero un giro di lancette però il Avellino passa, l'azione nasce da un errato disimpegno di Calombò, il colpo di testa di Magnero sbatte contro la traversa del prete allontana sui piedi di Carriero che calcia e trova Fella pronto alla deviazione vincente sotto porta. Rivediamo l'azione del vantaggio Irpino con la parata di Distasio prima della conclusione di Fella per l'1-0. L'Avellino insiste, al quattordicesimo ci prova Carriero dalla distanza, tiro fuori misura, prova a scuotersi il Foggia, cross dalla sinistra di Di Eno, Tito anticipa Calombò, poi ci pensa forte ad allontanare il pericolo. Al diciottesimo però l'Avellino raddoppia, Vitale perde palla nella propria tre quarti, Magnero vede Distasio fuori dei pali e lo impallina per il 2-0. Goffo e imbarazzante il tentativo di parata del portiere del Foggia. A quel punto gara già virtualmente chiusa anche perché del Foggia non c'è alcuna traccia, la squadra di Marchionni finisce sotto assedio. Al trentacinquesimo Fella sbaglia un gol facile facile spedendo di testa fuori a porta vuota. Sempre Fella dal limite manda fuori il tentativo in diagonale. La ripresa si apre con le proteste del Foggia per questo sospetto contatto in aria. Calombò va giù ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per accordare il calcio di rigore. Al quarantottesimo Lavellino cala il tris, calcio di punizione dalla destra, Fella di testa elude la marcatura di Dienno e realizza la personale doppietta che chiude definitivamente i giochi. 3-0 ma non è ancora finito il calvario dei rossoneri. Girandola di Cambi nel Foggia tra gli altri va dentro Rocca, Braglia invece concede riposo alle sue bocche di fuoco. Al cinquantaquattresimo ci prova D'Angelo dalla distanza. Pallone fuori ma non di molto. Sempre D'Angelo ci riprova al settantunesimo. Questa volta Di Stasio è bravo a mettere in calcio d'angolo. Il portiere del Foggia intercetta anche la conclusione di Bernardotto e sugli sviluppi del corner è costretto a capitolare ancora per questa conclusione dalla distanza di De Francesco sul quale il portiere non appare certamente perfetto. Il poker archivia i giochi e mette finalmente fine alla serata incubo di un Foggia che avrà tanto da riflettere e da lavorare in questi giorni che separano da un'altra sfida da brividi quella di domenica pomeriggio allo Zaccheria contro la Ternana.